Le indagini erano scattate per un trattore rubato ad un anziano di Bucine, ma gli accertamenti hanno portato i carabinieri a ritrovare, oltre al mezzo, anche una vespa rubata oltre 40 anni fa ad un signore di Pisa, che è rimasto senza parole quando i militari l'hanno avvertito che stavano per riportargli la sua matamoto. Nelle scorse settimane, infatti, il pensionato valdarnese aveva presentato querela denuncia per il furto del trattore portato via da un terreno nella frazione di Badia Ruoti. I militari avevano così dato subito avvio alle indagini e dopo aver ascoltato testimoni e visionato telecamere di video e sorveglianza, nel giro di poco avevano avuto gli elementi per chiedere all'autorità giudiziaria la perquisizione nella casa del sospettato, un cinquantenne pregiudicato che vive nel comune di Castelfranco Piandiscò. Qui, sotto un telone, i militari avevano ritrovato e poi sequestrato il trattore rubato, ma non solo, nel corso della perquisizione era saltata fuori anche una Vespa 50 Special degli anni 70-80, di colore bianco in ottime condizioni e sulla cui provenienza l'uomo non era stato in grado di rendere giustificazioni credibili. Gli approfondimenti hanno poi consentito così di stabilire che si trattava del mezzo rubato a Pisa nel lontano 1980. Il trattore e la Vespa sono stati così riconsegnati ai rispettivi legittimi proprietari. Il cinquantenne, invece, è stato denunciato per furto e ricettazione.